E' tempo che Renzi si impegna in prima persona affinché sia la volta buona anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Lo chiede il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sottolineando che il momento è ora o mai più. Le regioni, piuttosto che impegnarsi a ridurre inefficienze e sprechi per recuperare 4 miliardi richiesti dalle leggi di stabilità, rinunciano ai 2 miliardi di aumento del Fondo Sanitario Nazionale previsti dal Patto per la Salute, vanificando tutti gli sforzi del ministro Lorenzin. Nel frattempo, ricordo ancora l'esperto, tutte le criticità conseguenti alla mancata attuazione delle misure contenute nel Patto per la Salute continuano a ricadere sui cittadini contribuenti elettori, in particolare sulle fasce più deboli. Se invece la salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale non rientra nell'agenda di governo perché è già stata silenziosamente imboccata la strada dell'intermediazione assicurativa e finanziaria dei privati e la politica non intende più tutelare la salute dei cittadini italiani che sia comunque la volta buona per riformulare l'articolo 32 della Costituzione.